buongiorno carissimi amici oggi vi voglio presentare la mia creazione è una spilla ricamata a mano io amo ricamare le farfalle infatti ho tantissimi lavori ancora da farvi vedere questa è una spilla in 3d come vedete le sue ali sono pieghevole si può dare qualunque forma qualunque direzione mantiene sempre la forma può essere utilizzata per vari eventi come non so matrimoni e compleanni battesimi perché può essere applicata come una spilla oppure come clip per capelli questa parte ho rifinito con tessuto con camoscio e questa è questa la mia creazione poi vi faccio vedere altri lavori veramente sono fantastici